buon pomeriggio carissimi amici della comunità scientifica o meglio dire buonasera venuti in questo speciale capodanno 2020 2021 in cui andremo a vedere come si comporta questo coso che è una specie di fontana che fa le stelline le fontane che fanno che si sparano a capodanno in super slow motion a 1000 fps 40 volte più lento rispetto alla velocità normale se voi non vedrete niente non starete vedendo niente perché comunque telefono che uso ha una qualità schifosissima è buio sulle nove di sera del 30 dicembre quindi questa è la qualità che possiamo permetterci ho settato la videocamera con l'otturatore a 5000 le iso a 125 il fuoco più basso che c'è in modo tale che la ripresa viene estremamente scura perché ho fatto questo perché queste stelline colorate sono estremamente luminose ma tantissimo luminose se io setto la videocamera con l'otturatore a 1000 le iso automatiche e il fuoco a 2.8 verrebbe troppo luminosa le scintille la fontana verrebbe troppo luminosa quindi non si distinguerebbero i colori quindi la ripresa sarà estremamente scura però almeno si verranno i colori perché ste fontane qua fanno una luce pazzesca cambio di programmi l'otturatore sta a 10.000 perché ho fatto fatto una prova con l'accendino ma è ancora troppo luminosa siamo pronti questa cosa non vale un cazzo ma se c'è scaricata sta merda ma non ci posso credere ma dai ma veramente un cazzo ma non ci posso credere ma non ci posso credere ma non ci posso credere ma un cazzo ma non ci posso credere ma non ci posso credere ma non ci posso credere ma decisamente meglio io adesso la smetto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuti in questo speciale capodanno in cui non è passato un aereo fino adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E quindi non si distingue... Distingue... Ecco... Ehm... Sì... C'è stato qualcosa che non va? Cioè... Qualcosa è andato storno, mi sa? Allora... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.